Dopo la cocetta sconfitta in casa dell'audace Cerignola, arriva un tour de force da brividi per l'Avellino. I punti persi al Monterisi pesano come un macigno in casa bianco-verde, che ora si affidano al partiene Lombardi. Nelle prossime cinque partite l'impianto di Contrada Zoccolari diventa per trotta e compagni fondamentale. La società chiama raccolti tifosi, promuovendo i prezzi popolari per tutti i settori dello stadio. Quelle con Viterbese e Virtus Francavilla rappresentano due snodi cruciali della stagione. I Laziali vengono da due vittorie strepitose in casa contro le Big Monopoli e Catanzaro e al partiene punteranno al Triss, mentre i Virtus in trasferta sono un disastro, ma guai a sottovalutarli perché sono ad un solo punto dalla zona playoff. Tifosi chiamate raccolta sì, ma che dimostrano tutto il loro attaccamento anche nel giorno degli innamorati, esponendo uno striscione d'amore per i Lupi, sintomo che saranno presenti in Mastro partendo a Lombardi. Dopo due match casalinghi si va a Catanzaro, partita sulla carta senza storia, ma tra 180 minuti i calabresi potrebbero comunque mantenere il distacco di 10 punti dal Crotone e giocare contro i Lupi senza patemi d'animo e l'assilo della vittoria. Post Catanzaro il partegno diventerà lo scenario di Avellino Foggia, squadra a cura di Gallo che al momento sta godendo di un ottimo momento di forma e che potrebbe arrivare ad Avellino, calendario alla mano, con altri 6 punti più in classifica, visto che i rossonieri affronteranno Juve Stabia prima in casa e Fidelis Sandria ultima in classifica in trasferta poi. A chiudere il Tour de Force il derby con Giuliano, allo stato attuale la casa dei tigrotti, il mister di Napoli e ancora il partendo Lombardi e dunque salirebbero a 4 le prossime gare su 5 in casa dei Biancoverdi, un fattore da sfruttare se si vuole ambire come dichiarato dal club ad un posto privilegiato nella zona playoff. Un fattore che dovrà portare alla stella i tantissimi punti, perché nella speciale classifica del rendimento interno l'Avellino è soltanto sesta alla pali con Taranto e Monopoli a quota 24 punti conquistati, ma è la terza migliore difesa del campionato, con 6 reti al passivo, dietro Crotone e Catanzaro che ne hanno incassate soltanto 3 e 4.